Ciao, ti segnalo innanzitutto che in questo posto devo trovare il link al video che ho fatto precedentemente in cui viene raccontata la vicenda per sommi capi che poi saranno approfonditi in video successivi. Oggi vado a fare questo video perché me ne dà l'occasione il Corriere della Sera di Milano che qualche giorno fa ha contraddetto quanto ho affermato in quel video esercitando legittimamente quello che in democrazia si chiama il diritto al contraddittorio che adesso mi accingo ad esercitare io. E in quel video che da qui potete vedere o rivedere ho detto semplicemente tre cose. Primo che in 17 anni non sono stato mai chiamato a fare un colloquio di lavoro sulla base di quel master. In secondo luogo ho fatto presente che quando ho lavorato qualche volta a tempo determinato nelle aziende non sono stato mai chiamato da nessuno che mi avesse detto parlaci delle competenze acquisite al master così molto semplicemente le mettiamo nella tua scheda all'ufficio del personale e in terzo luogo ho segnalato che la Bocconi nell'edizione di quel master ha assegnato una borsa di studio pagata da un ente pubblico ad un ripetente alle scuole superiori. E qui mi rivolgo al direttore del Corriere della Sera il cui quotidiano qualche giorno fa direi con un tempismo perfetto ha fatto un articolo in cui afferma che i diplomati master alla Bocconi trovano sempre comunque lavoro e che addirittura negli ultimi anni gli stipendi sarebbero aumentati del 126%. Non ho ovviamente elementi per poter contraddire la veridicità delle affermazioni del Corriere della Sera però sicuramente ho degli argomenti per poterne dubitare fortemente. Il primo argomento è sicuramente la mia vicenda personale perché salvo volerla inserire come caso di studio internazionale negli annali delle statistiche si deve necessariamente concludere che il fatto di non trovare facilmente lavoro con il master è una situazione molto molto generalizzata. Lo testimonia anche il fatto che per ricoprire anche delle semplicissime posizioni di lavoro ho dovuto sempre cercare una raccomandazione e a fare il master alla Bocconi ci era andato proprio per evitare tutto questo. Il secondo argomento riguarda invece la falsità di alcune posizioni di lavoro che vengono pubblicate dalle agenzie di lavoro nelle principali piattaforme. Appena prima di fare questo video mi sono fatto un giro sulla piattaforma di lavoro Infojob e ho notato che nella mia città a Firenze negli ultimi sette giorni ci sono 221 posizioni di lavoro aperte. Ora siamo in piena emergenza Covid, ci sono 19 mila lavoratori del turismo a casa, ci sono le attività commerciali e artigianali che lavorano a singhiozzo, ci sono le attività industriali che producono a ritmo ridotto. Penso direttore che converrà con me che non è assolutamente possibile. A suffraggio di questa tesi voglio portare un fatto che posso dimostrare tramite la corrispondenza mail con un'agenzia di lavoro che è Quantaspa e che mi è capitato questa estate. Io lavoro come libro professionista, mi occupo di organizzazione aziendale, faccio software gestionali, siti web e anche applicazioni per le imprese. Però questa azienda era molto vicina, era a Prato, cercava un responsabile della qualità, io ho sviluppato uno specifico software gestionale anche per questo argomento e quindi mi sono candidato. E alla mancata chiamata da parte dell'agenzia, quantomeno ad un colloquio conoscitivo, non necessariamente per poi mandarmi in azienda, mi sono insospettito perché, visto tutto quello che avevo fatto, ho detto non è possibile che non possa essere chiamato nemmeno al colloquio da parte dell'agenzia. Al che mi sono attivato e siccome l'agenzia sull'annuncio aveva riportato il codice della norma ISO che faceva riferimento ad un'azienda di cosmetici, ho cercato su internet le aziende di cosmetici a Prato, ne ho trovata una sola, l'ho chiamata e mi hanno detto che loro non stavano assolutamente cercando quella posizione, ma che la cercavano un anno fa. Al che mi sono scusato dicendo magari ci sarà un'altra azienda di cosmetici a Prato e loro hanno detto assolutamente no, noi siamo l'unica azienda di cosmetici a Prato. A questo argomento dedicherò un apposito video dove mostrerò tutta la corrispondenza mail con quell'agenzia di lavoro per dimostrare alle persone che su internet ci sono anche delle offerte di lavoro false. Forse non so per aiutare chi, forse per non far arrabbiare le persone, per sostenere il governo, questo non glielo so dire, magari lei con tutti gli strumenti che ha potrebbe indagare anche questa vicenda, anzi le correrebbe l'obbligo etico, non certo il giuridico, di indagare anche su questa vicenda per vedere se veramente ci sono tante altre offerte di lavoro false su internet, cosa che il fatto che oggi a Firenze ci siano 221 offerte di lavoro negli ultimi sette giorni mi fa assolutamente pensare. Vado dunque a concludere e lo farò per deduzione, quindi se la mia vicenda non costituisce un'eccezione da essere studiata dalla scienza statistica a livello internazionale e visto che su internet ci sono delle offerte di lavoro false io propenderei per l'opinabilità di quanto affermato dall'articolo del suo giornale qualche giorno fa. Magari lei per aiutare i giovani a non incorrere in situazioni spiacevoli potrebbe suggerire loro di inserire prima di farlo, di aver conseguito quel master nel loro curriculum e poi di inviare il curriculum alle agenzie di lavoro per vedere se veramente c'è domanda di quella professionalità e per vedere quindi se si può trovare veramente un lavoro facendo quel master perché allora sicuramente potrebbe valere la pena di farlo. Io questa cosa la farò una volta alla settimana farò un video in cui prenderò un master, non necessariamente la Bocconi perché io non voglio dare addosso alla Bocconi, voglio cercare di aiutare i ragazzi e le famiglie dei ragazzi a fare delle buone scelte a non spendere in vano dei soldi. Quindi una volta alla settimana farò un video in cui prenderò un master con un certo argomento ovviamente e con l'estrattore di mail che ho sul mio desktop tirerò giù mille mail di quelle relative al settore aziendale in cui si dovrebbe andare a lavorare conseguentemente a quel master perché poi ragazzi magari a quelle mille mail possano mandare il curriculum e vedere se veramente conseguendo quel master si possono ottenere dei risultati nel mondo del lavoro. Arrivederci.